Musica Benvenuti a Due Carrare, sono Alice Carpanese, consigliera delegata al turismo e valorizzazione del territorio di questo bellissimo comune. E siamo qui stasera insieme con... Claudia Baldin, guida turistica di Padova, Vicenza e le Ville Vente. Siamo qui stasera per presentare il progetto Vivi Due Carrare tutto l'anno, che ci ha accompagnati nelle visite guidate del nostro territorio. In particolare vi aspettiamo qui a Due Carrare, domenica 13 agosto alle ore 10 di fronte al municipio. La visita comincia proprio dal cuore di Due Carrare. Faremo un'introduzione ovviamente un po' storica a questo comune giovane, ma dalle antiche tradizioni, dall'antica storia. E poi combineremo insieme circa una decina di minuti per arrivare qui, nel borgo di Ponte Manco. Un borgo fatto però anche di meravigliose ville venete, che ci parlano e ci apriranno anche le loro porte. Un piccolo raccolto delizioso oratorio. Insomma, questo e molto altro al borgo di Ponte Manco. Ovviamente non può mancare la spiegazione dell'antica tradizione dell'arte emolitoria qui a Ponte Manco. Le ville venete, che sono il cuore ancora oggi del borgo, ma anche le case delle calli, si chiamano ancora così. Insomma, tanti aneddoti curiosi. Vi aspettano domenica 13 agosto, a partire dalle ore 10, e la visita è gratuita. Quindi domenica munitevi di scarpe comode per affrontare insieme questa breve passeggiata piacevole e scoprire di più la nostra storia, la storia dei carraresi, signori di Padova, e la storia di Gabriele D'Annunzio, che da qui è partito per il suo volo su Vienna, e scoprire cos'era una volta la vita nel mondo rurale. Bene, vi aspettiamo a Ponte Manco, due carrare. Ciao! Ponte Manco 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 Ponte Manco